Musica Carimarca, Italia e Polonia da prima della quarta corsia Massa Frick e Piccalsene, Covatti e Patrick Duret Musica Allora, attenzione, ci siamo dalla prima a la quarta corsia L'Australia con il S, prima della dinarca con il Michel Snell Il Veneno ha speronato, tu vengalo in la quarta corsia, prima batteria della gara Musica E va nel comando, Duret Duret, che fritte, quattro, vincasene Quanto al passaggio del primo giro, Duret Cune, che fritte con il primo alla terza posizione Fulsi e guardiamo la terzine, Duret, che malcomando Attenzione, attacco di piccansene, lo sistemico uno in giro finca l'attacco di Lume e allora attenzione all'attacco di Lume attenzione all'attacco nuovo dell'Australiano ultimo a staccata fino a voglia d'Australiano fatti tutto bene erano i primi punteggi di giornata tre punti vanno a due due punti all'Australiano Max Freak un punto a Nico Alice e l'altro francese Gubernante e allora 30 secondi all'avvento di questa seconda batteria due volte Francia la Germania di questa helix interna eeeh 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 la Germania in su che Mexico sotto presogliere attenzione all'attacco delle francese ultimo a termine attenzione all'attacco del francese e va l'attacco a termine ultimo a staccata dalle di questo da l'attacco qui in o l'attacco L triste e che con a e che deve che Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 e allora... two per le arrellati... Covanti, Castagna... Tre punти per Bronco fino a questo momento per il terzo ed un secondo posto oltre per i Covanti un terzo ed un primo delle precedenti... di all'uscita... Ehi, Colatti, attenzione, Castagna di eterno, Colatti, Castagna, in prima e seconda, attenzione, attenzione, attacco di Marco Lini e Carlo, non esiste i comandi, per altri in defensa posizione, attenzione, scivolata per Castagna, ovviamente. Prima e quarta corsia libera e corsia centrali, Lati Blu, Bianco Lino. Ehi, Colatti, attenzione, 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 a tutti i suoi spazi, alle sue spalle, ogni passaggio, ormai nel primo giro. e ha preso un largo con 5 gira per tecni un ultimo in palmetto Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.